A disposizione è l'allenatore Matteo Bosanzini, Marco Gianni, Sciarra, Masterconi, Govis, Compagniucci, Del Moro, Ruano, Cirulli, Marchionni. Il Torentino sta piacendo il campo con il numero uno Matteo Bucosse, con il numero due Andrea Salvucci, con il numero tre Filippo Pesaresi, con il numero quattro Marco Di Viaggio, con il numero cinque Marco Padiali, con il numero sei Tento Di Comassetti, con il numero sette Diego Manna. Con il numero otto Paolo Tortelli, nove Fabricio Lovotti, con il numero dieci Lorenzo Carpezzani e con il numero undici il capitano Lorenzo Tizzi. A disposizione per il Torentino, governatore Paolo Passalini, Matteo Palazzo, Alessandro Tetticcioni, Aurelio Pavilaro, Federico Mariani, Riccardo Ruani, Santino Svinker, Luca Cicconetti, Stefano Matteo, Davide Moscati. Abbito per incontro il signor Andrea Reani, della sezione di Foligno, il primo collaboratore signor Mattia Piccinini, della sezione di Ancona, il secondo collaboratore signor Mattia Gasparri, della sezione di Pesaro Urbino. Vi ricordo che il pallone della gara è stato gentilmente offerto dall'Agenzia Emoziale La Casa di Tommaso Corvo. Vi ricordo che il pallone della gara è stato gentilmente offerto dall'Agenzia Emoziale La Casa di Tommaso Corvo. Vi ricordo che il pallone della gara è stato gentilmente offerto dall'Agenzia Emoziale La Casa di Tommaso Corvo. Sì, a due, a due. Grazie a tutte. Sì. E' chi ne è stato tre quattro cento. Hai fatto fati intanto. Allora Questo è tutto a posto 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti